Siamo con Filippo, Canarini Roma appena sconfitto Magnitudo, Ecomblock 4 a 0. Allora, doppietta per te, 9 punti in 3 partite, solo vittorie, imbattuti sin qui, ottimo inizio di campionato. Sì, assolutamente, un ottimo inizio, siamo un bel gruppo, ci divertiamo, siamo contenti e giochiamo veramente bene. E questo è il mio secondo anno della Lega, quest'anno sono partito benissimo, l'anno scorso invece avevo giocato poco, ma soprattutto perché sono contento del gruppo, della società, del mister e mi trovo molto bene, spero di fare bene e do sempre il massimo in campo. Ti chiedo, c'è ancora qualcosa sicuramente su cui dovete lavorare, ancora migliorare? Perché comunque al netto del risultato ha avuto tanta opportunità alla Magnitudo, quindi immagino che con il mister ci sarà ancora da lavorare. Sì, il mister ha preparato benissimo la partita e sicuramente rispetto allo scorso anno, io e tanti altri siamo arrivati quest'anno, quindi siamo nuovi. Sicuramente avremo tempo per conoscerci meglio, le prime partite sono andate bene, il gruppo c'è, siamo tanti e siamo una bella squadra, siamo forti. Abbiamo visto anche tanta intesa con i tuoi compagni di reparto, da Anastasio a Clemente, come procede l'integrazione all'interno del gruppo? Sì, ci piace giocare insieme, siamo tre ragazzi che giochiamo bene la palla, ci troviamo, così come con il resto della squadra possiamo fare bene. Hai una dedica personale per questi due gol? No, guarda, li dedico alla squadra, è un gruppo nuovo in cui mi sto trovando benissimo e sono contento, li dedico a loro questi due gol. Grazie mille, in bocca al lupo per tutti.